Buongiorno ragazzi per questo nuovo episodio e cominciamo! Volemmo essere rettivo anche la faccia perché sì Bene 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 abbiamo potuto dare un botto di esperienza in terza barra più o meno D'accordo dobbiamo andare a fare fuori qualcuno? Siamo a fare fuori sì Siamo a rilasciare non si sa mai Ma inizia un po' qualcuno Io ieri ci siamo anzi Affettiamola anche per prendere le quest Anche solo ci penso che siamo ancora a 10.000 dell'altra mappa Si è con te da finire di fare ma ok Prima o poi ci andrò ora Prima o poi che prima però Che riema Riccato tu vogliamo ok Perfetto Ci faccio saltare sopra? No peccato Se è stato bello se ci fossi riuscito E continuiamo con la seconda missione Sì sì sono stato un'automazione perché perché no Mi notate se perché così i bisogni durano molto di più Yeah E io devo ancora ricordarvi andare in un'altra mappa A cercarmi a zill'arma finale Così la cambio da questa che c'ho Perché è leggendari Leggendari No come ho la canzone Ecco mi sono stato un'automazione a Google Non so perché se è una canzone di coso Però ok Magari troviamo lo scrigno Qualche bello scrigno Il tesoro del Lo scrigno del tesoro fantasma Mi piace il nome Oh mio Dio Un attacco di robot Piobra Killer Che ne ha più ne metta Dove avrei potuto fare anche la Che ho? Uno spazio vuoto Buona domanda Tra la materia di ricerche Con la loro finché bisogno Forse Sono riuscito a usarla Io faccio così Scusate Non mi sembra il caso Di fare questa cosa che fate voi No che io mi offendo Però insomma Oh il pentacolo elettrico Che proviene da sotto Da un binario E che quindi non avrebbe senso esserci Posso proseguire così Ok Poi dire che cosa abbiamo? Niente Cioè dove siamo usciti Non si sa però Continuiamo E questo è l'importante E questo è l'importante Bene 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 Quanto mai potrà far male Scomparso Ecco quanto mai potrà Mi sta a fermare Aia Aia Quindi ora Per evitare Se sei con un'ora e mezza Io gli devi fare La bellissima mossa Del Sei già morto Più energia Mi ha beccato E' un'ora che va sotto te Oh che bella Questa mossa Colpo di grassia Molto Bene Posso un po' seguire Io gli diamo L'attacco Atacchio 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 Isottacchato Non è a caso Però sembra un attacco Si entra Giusto dobbiamo segnalare Al sequest E c'è uno Compagnino Qua Eh sì Noi ragazzi approfittiamo solo per questo In così Evventuare gli ex quest Le mie mani recuperare Cosa più importante Non si riempie Le cose le quest Perché sì ragazzi si può riempire Non ricordo se ve l'ho detto No Perché si attivano l'altro boss E proseguiamo Oh Sni di finderni questa è il punto alla cassa di fornimenti ho developerito un'altro guarda con quei raggi da morte questi due di qua e gli interi sono tutti morti e noi possiamo proseguire l'ho fatto bene a capire che sembra sia una pista di lancio quindi tanto si dice ne possono arrivare così e quindi a me basta semplicemente se di chi è problema risolto è una cosa molto difficile la chiede o dei italiani e tu c'è una razione compri un bianco in pieno io ti chiedo questo c'è un interesse tutto dal tutto tutto il nuovo vino raccoglie quindi lascerò giù per quanto c'è la nostra verità e quindi dire la porta giusto per curiosità da questa una parte buona sapersi arriva per uno sotto in pieno in pieno e ha preso in pieno ragazzi ma non tanti infatti ma se più tempo a cercare di uccidirli tutti quanti perché non le trovi anzi perché non si raggruppano eh che spavano altri ultimi sono una lunga giornata ti caccia ho visto anche adesso un miniboss ma non so più che fin ha fatto happy house salute qui dove è questa cosiddetta salute aggiuntiva o quello che è ah un evento ora dopo nel solito sfruttiamo letto a capire veramente ho detto chiesa che cosa ma ci sono i soldati qua dentro perché cazzo mi spiace per loro davvero e vogliamo dirci mamma mia ho mezz'ora ci dica doc su questo livello assi bene 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 posso seguire perfetto il boss si sarà l'umano il tizio ah no? ero comente fosse il contrario quindi non fosse una palla della morte o una ruota della morte di chi voglia modalità incazzatura attiva chi do ya capisce pata papa fam ghigliottina dice sempre voglio il lutto blu yeah eh sì abbiamo tempo che si è giusto mi sa per farci anche l'inventario pieno si utilizzo a quelli di questo che è una spada wow bella cosa intanto siccome sembra essere l'inventario pieno devo connettermi più spesso così ottengo le ricompense le ricompense soprattutto grazie a quelle che aggiungo che espandono l'inventario guarda il magazzino dove spandono l'inventario dove spandono l'inventario dove spandono l'inventario dove spandono l'inventario non ci piove poi prendiamo l'inventario questo e ne approfittuarsi giusto da fare una piccola scappatella al mercato è bello che dobbiamo vendere anche a riparare come dobbiamo riparare anche se dubbi ci sono cose che sapere da riparare però non mi dire mai prendiamo tutto il vendibile ho la solito oggettica ci sono sette spazi libri in un inventario bene 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 andiamo a stare di rivellarsi questa cosa più importante da bicchiere ah c'è stato un momento anzi di sguardi intenso da loro due qui si aspettassero che lui rispondere che lui facesse qualche... disse qualcosa ma non è successo niente così semplice easy ok dobbiamo tornare da giù ok 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 non me la metto io non me la metto quindi anzi si va a completare la nostra missione a finire ciò che abbiamo iniziato in questo caso che non abbiamo iniziato perchè noi non c'entriamo niente con questa cosa qua però ok ok arriva ok 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 io so ragazzi non avrebbe avuto ma volevo far sì che un cadevassi coltizzi robot e ce l'ho fatta e di cui piacere la vita ma fam come divertirsi con poco come divertirsi con poco guarda dico tu dico che io debba scendere no 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 sono tutti quanti questi nemici ahahahah si va a seguire gli occhi estremamente un po' come si può fare cadello il mio migliore di attestino in questo episodio devo ringraziare se poterlo il camerellum che ha ferito gravemente molti miei nemici e continua a prenderli sotto tra l'altro ragazzi devo fare 2 di danno ma io scommetto se lo prendo io sotto mi fa 299 mila di danno cioè mi sciottano proprio quel tuo livello ok lo accettiamo cioè in realtà non accetto neanche questo gasper insomma dai 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 no non avrei voluto passare che passasse prima quando eravano anche gli eraci noragni me ne stavano andando eh no devo prendere l'ult e se hai preso sotto ahahah come dire che stessi veramente un po' mezzo tu però secondo i 2 nemici si mettono i 2 insieme effetti ah ora ne arrivano due i 3 anche se a te ho sotto i mal dettagli sveglia beh no o merda in gas cosa fa questo gas in mente? cosa sapresti? no La posizione era serviva a qualcosa o era solo per estetica? Non mi sembra che fosse servita a qualcosa, sapete com'è. Ok, un range della morte speciale con il quale abbiamo. Aia, 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 mi stanno uccidendo. Aia, aia, pigliatevi, quale c'è? Scusa il mini boss, no? Non ho ancora capito che si chiede con i boss in realtà. Forse riusciamo a vederlo così? Ah, non è l'altro più grande, sì. Effettivamente, azi, mi sarebbe bastato leggere il titolo, per leggere il nome e il bersaglio. Dettagli! Sono una persona speciale io, in ogni senso buono. Mi sento azi, leggerissimamente ci sono dato la persona. Ma come ciò, sì, è una mia sensazione questa. Ma questo esplode solo di lungo. Stavo a dire che cosa servizia. Siccome azi, cosa mi avrebbe dato avessi il risultato, però. L'importante è quello di strutto. Ehi, manchi io li voglio. Dammi il tuo potere di lungo avanti. Aia. Ehi. 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 Come eh, viva. Ok, voilà l'ora. Ok, l'ora? Ehi. Mi sottosol, ne DC, questo e anche l'ora oAss Claudio Más. Acronto, ciòfima cosa si fa a vittare? Ma... Ma pegamata unличno da 51? Alla flug che... Si chiama spavano un 양最 attenznovälande... Ma... Massimo... Toi. Ah, la fortuna! Ci la torna molla. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!